Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite di Ok Italia Parliamone, Cesare San Mauro, professore di diritto dell'economia all'Università La Sapienza di Roma e presidente dei consiglieri emeriti del Comune di Roma. Buongiorno e ben arrivato San Mauro. Buongiorno a lei e a tutti gli stream video ascoltatori, chiamiamoli così. E chiamiamoli così, anche se ci si abitua sempre di più a questo nuovo strumento di fare comunicazione. D'altronde l'emergenza Covid ha sdoganato sotto tutti gli aspetti questo nuovo modo anche di comunicare tra le persone. San Mauro, lei pochi giorni fa ha costituito a Roma un comitato denominato DREAM, finalizzato alla costituzione di una lista civica per le elezioni amministrative comunali di Roma che ricordiamo oramai sono imminenti che si terranno nell'entrante 2021. Interessante e direi anche di per sé anche molto eloquente sui principi ispiratori di questo comitato è proprio il significato di DREAM. Da una parte è un termine, una parola inglese che significa sogno, ma dall'altra parte è anche un acronimo, un acronimo che significa difendere Roma europea amandola molto. Lei, ricordiamo ai nostri ascoltatori, già nel lontano 1993, è stato protagonista di un esperimento analogo perché si presentò alle amministrative con una lista che si chiamava Alleanza per Roma e riuscì anche a prendere dal nulla un buon 5% di preferenze. San Mauro, mai come in questo periodo si chiede a gran voce uno scatto d'orgoglio della nostra capitale per cercare di riconquistare un suo ruolo e soprattutto una sua dignità. Le chiedo come le è venuta l'idea di questo nuovo progetto? Allora, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità della domanda, faccio una breve importante precisazione, nel senso che DREAM appunto è un sogno e naturalmente preso dall'idea del celeberrimo discorso di Martin Luther King, I have a dream, ed è un tentativo di riunire nel solco di un'intuizione degasperiana che è richiamata nella Carta dei Valori di DREAM, dirò poi quali sono i documenti basi su quali ci stiamo muovendo, proprio la Carta dei Valori, è una Carta dei Valori europea, a Roma è ben noto nel 1957, furono firmati i trattati istitutivi della comunità economica europea da parte dei sei paesi che hanno iniziato, cioè Italia, Francia, Germania, Belgio, Londra e Dessenburgo, fino ad arrivare agli attuali 27. Ebbene, DREAM è anche un sogno perché rispetto ad una condizione nella quale ci siamo trovati dopo la riforma che ha introdotto la lezione diretta del sindaco nel mio 1991 e poi nel 1993 anche l'altro referendum. Io fui un po' il braccio destro di Mario Segni nella idea di concentrare l'attenzione sulla scelta dei governanti. E quindi elezione diretta del sindaco ma nel nostro pensiero anche c'era un sistema maggioritario alla francese con il ballottaggio a doppio turno. Segnalo il ballottaggio a doppio turno perché oggi in Italia solo a livello comunale c'è il ballottaggio a doppio turno. Laddove per le elezioni regionali vince invece chi prende a un turno unico il maggior numero di voti e non c'è quindi una possibilità di scelta fare i primi due vincenti. In Francia è un po' diverso perché basta arrivare tra i primi tre ma non facciamola troppo complicata per noi addetti gius pubblicistici. In sostanza quindi il sistema elettorale ha privilegiato i poteri del sindaco della giunta ma i consiglieri comunali che fanno? Potrei estendere questo argomento anche cosa fanno i parlamentari cosa fanno tutti i parlamentari cioè ci siamo concentrati dal novantatré ad oggi essenzialmente sul ruolo del potere esecutivo scegliendo direttamente l'esecutivo cosa di cui io sono orgoglioso e soddisfatto ma lasciando in ombra eccessivamente in ombra il ruolo del potere legislativo cioè del potere di rappresentanza. Quindi Dream parte dall'idea di capovolgere un po' quello che abbiamo fatto dal novantatré ad oggi e rilanciare il ruolo del consiglio comunale cioè consiglio comunale ha attualmente qualche potere residuale vi dobbiamo essere molto onesti in materia di bilancio urbanistica ma il novantotto per cento delle decisioni vengono prese dal sindaco alla giunta. Ecco bisogna fare un check balance. Ecco San Mauro un attimo perché quello che diceva lo condivido a pieno ma in un momento particolare ecco lei ha fatto una similitudine anche con il nostro parlamento è un momento in cui vediamo sempre di più decretazioni d'urgenza da parte del presidente del consiglio dei ministri quindi anche uno stesso parlamento che forse per certi versi viene esautorato di un suo naturale potere. Quanto può essere attuale quello che le sta proponendo per i consiglieri comunali? Estremamente attuale estremamente attuale. Devo dire che io sottolineo alla vostra attenzione una recente sentenza del tribunale di Roma che ha ritenuto buona parte dei degredi e presidente del consiglio dei ministri semplicemente illegittimi. Qui dobbiamo distinguere quando il governo utilizza lo strumento dell'articolo 77 della Costituzione il decreto legge e quando invece sul covid si è adottata un'attività normativa della pubblica amministrazione il cosiddetto DPCM. E' chiaro che sono due strumenti del tutto diversi. Nulla questio su decreto legge se il decreto legge, come dice la Costituzione, è adottato per motivi di straordinaria necessità dell'urgenza. Ma se nel decreto legge ci finiscono delle norme che col covid non seccano niente. Come diceva un giudice che poi si mise a fare politica per un certo periodo anche con un certo successo alcuni anni fa, ebbene non va bene. Cito un caso. Nel decreto legge covid terra c'è un articolo 5 che riguarda la partecipazione o meno nel novero delle amministrazioni pubbliche e delle finanziarie regionali. Ma questo cosa c'è con il covid? Nulla. Cioè ci stiamo abituando a fare una legislazione e uno per tutti è il recentissimo omnibus di tutto in cui francamente la normativa legislativa non ha un filo conduttore unitario e allora questo è già negativo per le normali leggi. Figuriamoci per il decreto legge che invece deve essere adottato come la Corte Costituzionale spesso ha detto. Figuriamoci ancora di più per il DPCM. Fra giudici abbiamo spesso scherzato perché c'è come quasi un capovolgimento delle fonti del diritto, no? Noi all'università spieghiamo a ragazzi che prima viene la Costituzione, poi ci sono le leggi ordinarie, poi ci sono i decreti legge, poi ci sono i decreti, gli atti normativi pubbliche e così via. Oggi invece sembra che le Q&A, cioè le question and answer, che sono una formula anglosassone di domande e risposte alla pubblica amministrazione, siano fonti normativi di primo grado. Non sono semplicemente fonti normative. Quindi anche la polizia e le stesse forze dell'ordine che applicano le istruzioni, le circolari e rivedo le Q&A fatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, probabilmente secondo il Tribunale di Roma hanno sbagliato. Ecco, allora, quindi dobbiamo ribilanciare. Ribilanciare come nelle democrazie mature, cioè aver scelto, vediamo le Repubbliche Presidenziali, dove si sceglie direttamente il Presidente della Repubblica, la Francia, gli Stati Uniti, l'America, ho citato due grandissime democrazie e però i poteri del Parlamento non sono affatto esodorati. E lo stesso vale a livello di amministrazioni locali. I poteri dei consigli, dei municipali, dei consigli comunali, sia nell'esperienza americana che in quelle francese, sono notevolissimi, per non parlare ovviamente dell'esperienza inglese e tedesca e dell'autonomia. Peraltro la riforma sul federalismo, o quello che ne è rimasto del riforma del titolo quinto, recita in modo capovolto rispetto a quello che stiamo elaborando in questo periodo, perché dice che la Repubblica è formata da comuni, città metropolitane, regioni e Stato, cioè metterlo Stato in fondo. Quindi un tema di ribilanciare funzioni è un grande tema, ma si aggancia al primo delle grandi questioni di DREAM. Perché lo vogliamo chiamare un sogno? Perché anche se venisse eletto Nembo Kid, sindaco di Roma, e i consigli comunali fossero tutti superman o uomo ragno, con l'attuali poteri istituzionali, i grandi problemi della capitale... Ecco, però le chiedo... San Mauro, noi negli ultimi settimane abbiamo visto sempre di più grandi riunioni, grandi movimenti fatti tanto nel centro-destra quanto nel centro-sinistra, anzi soprattutto lì con anche Calenda che scalpita in maniera molto forte per avere l'imprimator, per essere indicato, insignito di questo importante mandato, quantomeno a cercare di poter fare il sindaco. Le chiedo, secondo lei ci sono davvero gli spazi per un nuovo movimento civico per Roma? Assolutamente sì. Sono convinto che molte delle persone che si riconoscono nella tradizione cattolico-popolare, ma anche naturalmente liberal-democratica, socialista, social-democratica, repubblicana, ambientalista, che si sono trovati un bipolarismo italiano un po' anomalo, un po' imperfetto. Molto meglio invece il sistema francese, che in realtà sporta col ballottaggio a quattro poli, una sinistra, un centro moderato di sinistra, un centro moderato di destra e una destra. No, in Italia si è un po' schiacciato su un bipolarismo un po' americano, senza avere però quella tradizione di bilanciamento dei poteri che ci dà un primo agli Stati Uniti. Qui lo spazio è immenso. Guardi, la mobilità elettorale in Italia è altissima. Il fatto che il Movimento 5 Stelle sia divenuto il primo partito, nello spazio di qualche anno, e poi si è sceso adesso dal 33% delle politiche al 18 o al 15 dei sondaggi, dimostra che c'è una ricerca di novità. Allora, stabilite quali sono le radici di dream, cioè l'europeismo, Europa vuol dire naturalmente libertà, libertà di stampa, di parola, di associazione, di movimento, di capitali, di merci, quindi una forte dose europeista. Noi crediamo, con grande convenzione, che si possa recuperare tutta un'area moderata che faceva riferimento e che oggi non si riconosce né in un polo che si va chiaramente definendo sulla sinistra, che è quello P di 5 Stelle, né quello di destra che è schiacciato evidentemente particolarmente su Roma, su Lega e Fratelli di Italia. Ecco, mi verrebbe naturale farle la solita domanda. È un ulteriore tentativo di dar vita alla grande democrazia cristiana o di qualcosa che li assumiti? Ma guardi, io sono... È proprio non come la grande balena bianca, ecco, capire un attimino se c'è una sorta di tentativo di ricreare una casa comune, partendo da Roma. Allora, una casa comune, sì, certamente. L'intuizione politica... Io ho fatto due mandati, la prima della democrazia cristiana, dall'89 al 93. Poi ho seguito Mario Segni, di quell'esperienza che lei si dava prima, si chiama Alleanza per Roma, e facemmo quindi una lista diversa in un contesto tutto diverso. Oggi io penso che noi dobbiamo intanzi tutto cambiare dei giovani in Consiglio Comunale. E quindi mi tiro subito fuori. Cioè, stiamo pensando a una lista di consiglieri comunali under 40. Quindi di giovani professionisti che non vivano di politica, che però tra i 30 e i 40 anni abbiano già un'esperienza professionale e che abbiano quelle energie anche per affrontare un territorio, e ricordo che il comune di Roma è il più esteso che esiste in Europa. Cioè, se noi mettiamo fisicamente i comuni di Parigi, Londra, Berlino e Bruxelles insieme, non raggiungiamo l'estensione territoriale dei 40 e più chilometri risuono dall'Euro a Labbaro o da Ostia a Torsabienza. Ecco, quindi voglio dire una classe di giovani. Al contempo diremmo rebus sixtantibus, cioè in assenza di una necessaria, come ho detto prima, riforma globale per cui Roma diventi una regione, perché la soluzione o come è una provincia autonoma, quelle Trento e Bozzano, che la Roma capitale deve avere un potere legislativo, se no, come dicevo prima, Nembo Kid e Superman non fanno nulla. Però, così stando le cose, penso che nei consigli municipali potremmo invece, al contrario, utilizzare l'esperienza e la professionalità dei giovani pensionati. Cioè, ci sono moltissime persone che a 65, 67, 70, voglio dire, magari ingannano in tempo con le partite di Burraco o di Bridge e andando a giocare a tennis potrebbero amministrare dei territori che sono dei territori, cito Ostia, 200.000 persone che sono delle vere e proprie città. Quindi penso a una lista di giovani per il Consiglio Comunale e una lista di giovani anziani, giovani della terza età, per i consigli municipali. Ecco, non pensa che il ridurre soltanto una partecipazione all'individuazione di un tetto della soglia dei 40 anni per poter accedere a questo ipotetico Consiglio Comunale possa essere, per certi versi, anche una limitazione, perché qualche tentativo di qualche famoso rottamatore c'è stato in Italia, poi ci si è reso conto che alla fine non è l'età anagrafica di per sé a fare la differenza, ma l'età mentale soprattutto la voglia di fare. Noi abbiamo ancora oggi delle menti lucidissime in coloro che hanno rappresentato un po' le eccellenze, anche in quella che viene definita spesso in maniera negativa, ma non lo è sempre la prima repubblica. Io le faccio un esempio scientifico, universitario. Io sono segretario generale di una fondazione, si chiama Roma Europea, che non ha niente a che fare con Dreamly, questa fondazione è presente Giuseppe Derita, che ritengo il più attento osservatore della città. Lui ha la generosa, la giovane età di 88 anni. Ogni mattina Valcensi salì. ...idee di rotta a mare, assolutamente no. La mia proposta è limitata al Consiglio Comunale, cioè non è che penso aggiunta ad esempio ad assessori di giovani o a candidati sindaci giovani. Penso che proprio per le dimensioni fisiche bisogna trovare nuove energie per rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale. Proprio per quello che dicevo prima, il ruolo del Consiglio Comunale si è estremamente appiattito. Ecco. Come purtroppo si va appiattendo quello della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o dei Consigli regionali. Assolutamente sì. Ecco, mettendo da parte l'etana grafica, dove ci siamo ovviamente ben chiariti, da chi dovrebbe essere composta la sua lista? Mi spiego meglio. Quali professionalità dovrebbero essere messa in campo in questa lista che volete presentare? Ma certamente intanto capacità multidisciplinari, persone che si occupano di tematiche della mobilità, esperti di politica ambientale, esperti di questioni urbanistiche, persone che si occupano della sanità sul territorio, conoscenze economiche e finanziarie significative. Cioè, quindi tutti una classe multidisciplinare, ripeto, di giovani under 40. Poi guardi, io sono un amante del calcio, è chiaro che se poi si, come nella nazionale under 23, ci sono due o tre fuori quota, potremmo anche immaginare di avere qualche fuori quota per il Consiglio Comunale. Ecco, il problema non è quello. Il problema è quello di dare una grande visibilità e mantenere anche, guardi, una cosa che io non amo affatto, l'argomento è molto complesso, appunto essendo io un uomo, è il tema delle quote rosa. Io penso, voglio dire, che le quote rosa, ma questo è giusto che lo dicano molte mie colleghe, sia di campo universitario, sia i miei colleghi legali, di per sé sono un po' mortificanti per le donne. Le donne non hanno bisogno delle quote rosa. Però è anche vero che le quote rosa, in un certo periodo storico, servono a allargare la rappresentanza. E questo è utile. Quindi io penso a liste 50% uomini e 50% donne. Ecco, San Mauro, Roma è una città unica, è inutile che ce lo raccontiamo oggi, perché è una certezza che ha il popolo di tutto il mondo, di quanto veramente non esistano città uniche come Roma. Le chiedo, come si può valorizzare l'immenso patrimonio storico, culturale, scientifico, economico e sociale di Roma per farne nuovamente una vera capitale europea? Sì, allora, intanto io vi segnalo, senza voler fare pubblicità assolutamente, un bel libro che ha scritto su questo Francesco Rudelli, che si chiama Tutte le strade partono da Roma, non portano a Roma. Ed è interessante. Molto interessante, veramente un testo interessante. Ha esportato nel mondo il diritto, io sono un giurista, ma ha esportato nel mondo l'urbanistica, ha esportato nel mondo l'architettura. Quindi è stata, voglio dire, a lungo ed è tuttora non solo una grande capitale europea, ma è Caput Mundi. Se non altro, perché in fondo il Santo Padre, quando si affaccia Covid permettendo, dà la finestra la benedizione dà Urbi, cioè la città, et Orbi, e al mondo. Quindi il, come dire, il globo del rago si divide tra Roma e il resto del mondo. Questo per dire le dimensioni storiche e culturali della città. Beh, naturalmente bisogna ammirare le qualità dei servizi, bisogna affrontare in primis le questioni che sono sotto gli occhi di tutti. Il tema della mobilità. Abbiamo fatto una figuraccia mondiale con la storia del Giro d'Italia per quale, dopo aver percorso due giri, i ciclisti hanno detto con queste buche noi interrompiamo il Giro d'Italia. E al posto di fare gli otto o dieci giri per evizio, non mi ricordo se si sono fatti uno o due. E questo è un tema incredibile. Stiamo a situazioni paradossali. e addirittura giudici che non condannano il comune perché dicono, poiché è noto che a Roma ci sono così tante buche, deve essere il singolo autista, voglio dire, a evitarlo di prendere. Insomma, questa è una cosa, veramente è l'inversione dell'onere della prova. Il tema della mobilità, naturalmente, prevede immediatamente un intervento straordinario per il cablaggio della città. Noi parliamo di nuove tecnologie e ok, italiaparliamone.it è un'esperienza estremamente interessante, ma si basa naturalmente su una fibra ottica che ancora non è presente in buona parte della città come ultimo miglio. E abbiamo quindi una necessità di concentrarsi su questo. Mobilità dal punto di vista, ovviamente, degli spazi fisici, dal punto di vista del rinnovare il parco automezzi, dotando e escludendo ogni titolo di mobilità che non sia elettrica all'interno del muro aureliano, e anche con coraggio, anche imponendo, voglio dire, escludendo ogni forma di inquinamento indotto dai gas di scarico, anche se conosciamo che non è la principale fonte di inquinamento, certamente però questo aggravia. Quindi organizzando anche la mobilità e il trasferimento delle merci nei negozi. Roma non può essere solo un museo, deve essere una città viva e il patrimonio archeologico e il patrimonio storico non è solo musealizzato, deve essere vissuto. Peraltro la bellezza di Roma è che le chiese del Bernini, del Borromini, stiamo parlando del barocco, quindi di 1300 anni dopo il periodi gloriosi dell'impero romano, 1400 anni dopo Adriano o Antonino Pio, o insomma Traiano, i grandi imperatori romani, e gli stessi materiali, le stesse colonne, poi sono state riutilizzate per fare le chiese. Quindi Roma ha un unicum storico assoluto. C'è una continuità antropizzata che dura 2750 anni. Non c'è nessun nulla. È vero che Atene preesiste, è vero che Tebe preesiste, ma poi è stata completamente abbandonata. Atene pescolavano le pecore, oggi se si va a Luxor c'è una parte che è la città dei morti, dal di là del Nilo, di qua è la città dei vivi, ma è scusamente un museo ecologico, non ci vive nessuno. Quindi dobbiamo far convivere questo, risolvendo questo tema. L'altro gravissimo, enorme, è il tema dell'ambiente. Qui voglio essere dirimente e chiaro. Nel programma di DRIB noi abbiamo scritto una carta dei valori, abbiamo scritto uno statuto, abbiamo scritto delle linee programmatiche. Le linee programmatiche abbiamo previsto un termovalorizzatore, e cioè un inceneritore. Noi non dobbiamo pensare che si possa continuare continuando a esportare la parte dei rifiuti non riciclabili, perché non arriveremo in nessuna città o civiltà del mondo, arriveremo al 100% del riciclo. Ci sarà sempre un residuo che dovrà essere smaltito. Ebbene, o si fa in una discarica o si fa in un inceneritore. Noi cosa facciamo? Nascondiamo la testa sotto la sabbia e semplicemente esportiamo i rifiuti. Li esportiamo in Germania con i treni, li esportiamo con le navi in Nigeria. Ma questo costa. costa al cittadino, costa in termini di tariffa dell'AMA. Quindi questi temi della mobilità e della riforma sostanziale delle due aziende, AMA e ATAC, sono quelle da cui si parte, insieme alla grande sfida della metropolitana. È chiaro che una città di questo tipo non può vivere con una metropolitana in cui il New York Times ha fatto un pezzo bellissimo sul fatto che abbiamo impiegato otto mesi per riparare la scala mobile di Piazza Barberini. Otto mesi sono cose indescrivibili, non raccontabili. Sembrano barzellette, ma ok, Italia, parliamone. È solo la realtà. Ecco, non sono barzellette. E quindi noi dobbiamo partire da queste cose, dalla mobilità. Un'altra cosa importante, San Mauro, lei ha detto un aspetto che reputo fondamentale perché in tantissime grandi capitali in giro per il mondo ci sono anche inceneritori all'interno delle città perché si sa che anche... E' anche... Bravissimo. Il rifiuto può essere anche fonte di ricchezza. Ricordiamo che l'Europa ha fissato nel 2035 il termine ultimo per arrivare al 60% del riciclo totale della vita dei rifiuti perché qualcosa ovviamente bisogna fare subito. c'è un altro aspetto però lei ci ha parlato di ambiente, ci ha parlato di mobilità, ha citato, l'avrei fatto io subito dopo, mi ha anticipato l'incresciosa vicenda delle metropolitane romane chiusa perché purtroppo se si ricorda non è stata solo Piazza Barberini ma anche altre fermate di metropolitana paralizzando completamente la mobilità di tanti turisti che venivano. Oggi siamo stati, ecco la dico forte e in maniera provocatoria graziati dal lockdown del covid e non abbiamo avuto altri problemi nell'utilizzo di questi mezzi un pochino vecchi ma senza un'assistenza e una manutenzione quotidiana e costante che dovrebbe servire per essere una città veramente internazionale. E proprio sull'essere una capitale internazionale di Roma le faccio un'altra domanda su un settore secondo me trainante. Lei prima ha detto in maniera molto chiara di quanto Roma sia anche un vero e proprio museo a porte aperte, un museo a cielo aperto. bene il turismo rappresenta lo sappiamo il 13% del nostro prodotto interno lordo come paese però c'è un dato purtroppo che è emerso che ci racconta che contrariamente alle altre capitali penso solo al paragone con l'Europa ecco contrariamente alle altre capitali europee il turista da tutto il mondo che viene a Roma viene una volta poi smarca il nome Roma sul proprio taccuino dei viaggi e non torna più nonostante ci siano tantissime cose da vedere non torna più perché? perché è una città che ha difficoltà da un punto di vista della sicurezza è una città che ha difficoltà da un punto di vista della mobilità lo dicevo alle prima è una città anche San Mauro morta da un punto di vista di offerta per il turista oltre diciamo per la sera per passare anche l'orario Lottuno Amorosini lei ha talmente tanta ragione e una tale conoscenza della città che io le propongo di candidarsi lei da sindaco perché voglio dire ha una ha accolto le questioni fondamentali adesso ho superato da un poco più di vent'anni trent'anni purtroppo lei mi ha messo no 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 quello è per i consiglieri comunali attenzione non ho detto né per il sindaco né per i componenti raggiunti comunque al di là delle battute lei ovviamente fa brillantemente un altro lavoro io faccio l'avvocato e voglio continuare a fare l'avvocato professore universitario chiarisco subito che non mi candido assolutamente è una posizione per sgombrare ogni però il tema che lei ha accolto è vero è vero perché è una città che a lungo è stata da troppo tempo è stata fuori dal grande circuito internazionale dei congressi dei grandi eventi delle grandi mostre guardi io sono stato per sette anni nel consiglio di amministrazione della galleria nazionale delle marche a Urbino posto meraviglioso nel palazzo di Urbino dove ci sono i capolavori di Piero Francesca e di Raffaello bene però non c'è un albergo 5 stelle in grado di recepire un certo standard internazionale non c'è un treno che ci arriva da Roma ci vogliono quattro ore e mezzo in macchina allora qui abbiamo citato una situazione esterna potremmo anche parlare a livello italiano delle difficoltà che si ha perché abbiamo certamente le più bel mare del mondo altro che il Maldive ma non abbiamo delle capacità in termini di aeroporti porti ferrovie autostrade strade urbane manutenzione ripeto torniamo al tema delle buche è chiaro che se una città non offre questi servizi e lei accenna da un altro tema che però è importante la necessità di un maggiore coordinamento tra le polizie municipale la polizia di stato i carabinieri e la guardia di finanza è vero è vero che Roma è una città insicura è vero che a San Basilio voglio dire c'è uno dei centri europei di spaccio dei subfacenti lo sanno le forze e l'ordine è vero che esistono delle difficoltà enormi a Corviale a Torsabienza è vero che esistono a sette bagni delle realtà ben conosciute anche dalle forze dell'ordine più integrazione unificazione scambio di dati in tempo reali uso delle tecnologie per una rapida identificazione dei soggetti e questo superando magari le gelosie dei singoli corpi di appartenenza ma affidando al questore di Roma che ha questi poteri ex legge un coordinamento reale operativo tra tutte le forze dell'ordine compreso la parte dell'esercito che non dimentichiamo con l'operazione strade sicure svolge anche un'attività di vigilanza davanti all'ambasciata e davanti a alcuni luoghi sensibili beh coordinamento con questi non c'è quindi è chiaro che la necessità di lavorare in questa direzione per garantire la sicurezza allora è vero che non possiamo consentire a un posto fisso che deve controllare il rischio di un attentato a un'ambasciata di intervenire di fronte ad uno scippo però dobbiamo dotarlo di strumenti tecnologici di tempo reale per avvertire i colleghi delle unità mobili di intervenire immediatamente ora questa integrazione fra le diverse tra i diversi soggetti secondo me è ancora molto carino molto bene allora San Mauro noi sicuramente siamo incuriositi dal suo sogno soprattutto siamo incuriositi dal capire se il suo sogno sarà il sogno di tanti romani quindi sicuramente come Ok Italia parliamo torneremo a collegarci con lei con grande curiosità con grande interesse e non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo per l'avventura appena iniziata ci tenga grazie molto a lei e in bocca al lupo a voi perché avete sapete affrontare con uno spirito di grande competenza ma anche con un spirito vivace allegro e divulgativo temi complessi grazie professor San Mauro prestissimo arrivederci